Musica Mentre a Palazzo dei Normanni continua a sventolare la bandiera francese a mezz'asta, segno della solidarietà e della vicinanza del popolo siciliano alla Francia, si sono concluse con altro sangue le tre giornate di attacchi terroristici e di stragi che hanno sconvolto Parigi. Dopo l'assalto alla redazione di Charlie Hebdo, in cui sono morti 12 giornalisti, la giornata di venerdì ha visto consumarsi infatti un doppio e simultaneo blitz dei reparti speciali francesi, in cui sono stati uccisi i tre terroristi insieme a un loro probabile fiancheggiatore. Con loro sono morte anche quattro persone che erano state prese in ostaggio in un supermercato. Tutto era iniziato con il tentato furto di un'auto da parte dei fratelli Coachy che dopo uno scontro con la polizia si sono asserraiati in una tipografia a est di Parigi con un ostaggio. Circondati dagli agenti, i due sono usciti sparando contro la polizia che ha risposto al fuoco uccidendoli. Contemporaneamente si stringeva il cerchio attorno al killer di una giovane poliziotta entrato in un supermercato prendendo in ostaggio una decina di persone, tra cui donne e bambini. Secondo le ricostruzioni, l'uomo ha ucciso subito quattro degli ostaggi e anche qui, per ordine di Hollande, le teste di cuoio sono passate all'azione uccidendo il killer e soccorrendo i superstiti. I francesi adesso provano a ripartire anche se la strada appare molto in salita. Domenica, alla Marcia Repubblicana, in nome dell'Unità Nazionale, in prima fila ci sarà anche François Hollande, sostenuto dai massimi vertici europei, tra cui anche Matteo Renzi, e il segretario di Stato americano alla Giustizia, Eric Holder. Anche Palermo ha dedicato una giornata per dire no ad ogni forma di terrorismo. Per condannare i fatti di sangue di Parigi, il Centro Lavoratori Stranieri della CGL Palermo e i rappresentanti della comunità islamica della città hanno organizzato a Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, un sit-in di solidarietà e cordoglio. Fa molto piacere di vedervi così numerosi oggi. Riscate proprio il cuore a noi francesi di vedere che dappertutto nel mondo c'è questa solidarietà e pure ne abbiamo bisogno. Si chiama Pierre Gilbert, è uno studente francese Erasmus che studia Scienze Politiche ed è l'organizzatore dell'evento Raduno che è stato proposto nel primo pomeriggio di giorno 9 gennaio e presso Piazza Università a Catania, per esprimere la solidarietà siciliana alla Francia colpita dagli attentati degli ultimi giorni. Un raduno organizzato in primo luogo per onorare la memoria delle vittime e degli attentati, ma anche per parlare di religione e di diritto alla libera informazione e per esprimere i tanti dubbi e le domande alle quali al momento ancora nessuno sa rispondere. Noi la verità non la conosciamo ancora su questa storia, non sappiamo come mai i due assassini eravano così allenati, così armati. Durante il raduno è stata data voce al rappresentante del sindacato provinciale dei giornalisti che ha portato la propria testimonianza della consegna al console di Francia di una lettera ufficiale di dolore e solidarietà per la perdita dei colleghi francesi. Per questo attentato vile che ha offeso le coscienze e la libertà di espressione presenta in piazza anche il console onorario di Francia a Catania. Essere vicini alla Francia significa essere vicini a tutto il mondo occidentale ma alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione perché tutti noi viviamo per essere degli uomini e delle donne viste. Grazie. Sale la paura in Sicilia dopo le stragi francesi. Controlli antiterrorismo sono stati disposti sulle moschei vicino Palermo con grande attenzione per il Tempio Islamico di Villa Abate particolarmente attivo nella propaganda della fede islamica. La procura antimafia di Palermo attiva sul fronte antiterrorismo presume che tra il capologo siciliano e le province possa esservi una cellula di accoglienza di affilati dell'IDIS e dell'Alqueda. L'ipotesi era già stata trattata alla procura e dall'ufficio GIP ma oggi cresce il panico e la paura di un possibile ed imminente attacco. Sull'accaduto si è pronunciato anche il procuratore capo Francesco Lovoi il quale sostiene l'importanza fondamentale dello scambio di informazioni e a Palermo il possibile pericolo non viene mai sottovalutato. Non si tratta, dichiarano in procura, di criminalizzare il Tempio Islamico ma proprio con la moschea di Villa Abate sembra essere collegato l'approdo di migranti sulle coste ragosane tra i quali spiccano alcuni possibili infiltrati. Di recente inoltre il PM Callogero Ferrara ha chiesto 30 anni di carcere per un somalo accusato di tratta di esseri umani e di avere stuprato e costretto a pagare più di 3.000 euro alcuni migranti conducendoli in seguito nel deserto libico. Resta il dubbio su cosa lo avesse quindi portato a soggiornare proprio in Italia. Intanto continuano i vertici dopo la riunione tra i dirigenti della Digus che hanno incontrato il procuratore aggiunto Leonardo Agueci con i sostituti Sergio Barbiera e Emanuela Ravagnoli colloqui anche con il PM Jerry Ferrara e forse lo stesso lo vuoi per discutere e prendere le giuste misure di sicurezza. Safir Nata con prerogative di alta qualità oggi Safir è l'industria per la sicurezza che senza smentire un passato esclusivamente artigianale abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir La sicurezza dei tuoi beni più cari La Sicilia muore ma si può ancora salvare è indispensabile imboccare subito la strada della crescita perché accada la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti perciò serve l'informazione investigativa propositiva ed efficace scoprila su qds.it Campagna Etica 2014 Abbonati al quotidiano di Sicilia Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Anche quest'anno abbiamo fatto delle geramiche particolari per le feste di Natale Vi invitiamo a venireci a trovare qui in fabbrica a vedere e fare assieme il vostro regalo di Natale o regalarlo o regalarselo è sempre un motivo di gioia una ceramica in una perrucca. Fumata nera per il piano giovani della regione Sicilia svenisce anche questa volta la speranza di migliaia di ragazzi di trovare un'occupazione forse sarà possibile salvare solo un click day quello che doveva essere fatto tra la fine di agosto e settembre ma del quale ancora non si ha il bando adesso l'assessore alla formazione Mariella Lobello spera in un'imminente trattativa con Roma per salvare il salvabile quel che è certo è che dal piano di 250 milioni di euro è andata a buon fine solo una selezione la prima tenutasi nel mese di luglio adesso si attende la transazione con ETH la ditta privata che potrebbe gestire la piattaforma informatica delle prime selezioni tuttavia proprio la ETH sembrerebbe essere la responsabile dei problemi che hanno portato al fallimento del secondo click day di agosto ma il tempo passa e dopo cinque mesi ancora non è stato trovato un sostituto della ditta proposta dall'ex dirigente Anna Corsello intanto sono anche scomparsi i fondi per il finanziamento del nuovo click day il finanziamento previsto era di 31 milioni che stando all'ex assessore alla formazione Nelly Scilabra avrebbe dato vita a più di 700 aziende e 315 società pronte a dar lavoro a circa 1500 giovani 6 milioni invece erano destinati ai contratti di apprendistato 12 in milioni per i tirocini e ben 3.300 neulareati professionali quindi addio all'occupazione per più di 2000 ragazzi di età compresa tra i 19 e i 35 anni Pericolo assenteismo dietro le assenze brevi per malattie a lanciare l'allarme una ricerca della CGA di Mestre da cui emerge che nel pubblico impiego un'assenza per malattia su quattro dura un giorno con il boom a Palermo dove dura un giorno la metà delle assenze Dallo studio avviato dopo i casi di malattia dei vigili a Roma per il Capodanno emerge inoltre che nel 2013 il numero di giorni medi di malattia dei lavoratori dipendenti del settore privato è stato superiore a quello dei dipendenti pubblici Il pericolo che le assenze brevi nascondano forme più o meno velate di assenteismo è almeno in alcune aree del paese quanto mai concreto soprattutto nei casi in cui la malattia dura solo un giorno Per quanto riguarda le assenze per malattia di durata complessiva tra i due e i tre giorni invece l'incidenza sul totale degli eventi sale al 36,1% nel pubblico e al 31,2% nel privato Ma l'attenzione della CGA si è soffermata sulle assenze per malattia di un giorno più facili da programmare da parte di chi ha deciso di comportarsi scorrettamente nei confronti del proprio datore di lavoro A livello provinciale spicca la situazione della provincia di Palermo tra i dipendenti pubblici il 42,6% del totale delle assenze dura una giornata mentre nel settore privato l'incidenza scende al 27,8% In questa particolare graduatoria Palermo detiene il primato sia nel pubblico sia in quello privato seguita da Grigento, Catania e Trapani Complessivamente la provincia che presenta la durata media di malattia più elevata nel pubblico impiego è Vibo Valencia con 23,2 giorni di assenza all'anno Nel settore privato invece dopo la leadership del capologo siciliano vanno segnalati i risultati di Catania, Roma e Siracusa mentre i territori più virtuosi sono Vicenza, Udine, Ascoli Piceno e Vibo Valencia Ha anticipato la sua tappa grigentina di oggi con un 5Tio su Twitter In Sicilia 70 insegnanti su 170 sono malati o godono dei benefici della 104 Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione, ha voluto mettere il dito sulla piaga proprio in una delle realtà a Grigento dove si registra un alto numero di furbetti della 104 oltre 1.500 Almeno secondo l'ultimo monitoraggio dell'ufficio scolastico provinciale che ha trasmesso all'Inps una relazione per verificare eventuali posizioni anomale E' vergognoso che si sia utilizzato uno strumento di democrazia e di civiltà come la legge 104 per furbizie e per scavalcare insegnanti che avevano effettivamente bisogno magari di poterlo soffrire di quello strumento e che non possono farlo perché c'è qualcuno che da furbo ha voluto utilizzarlo Tra l'altro ne risente la didattica, ne risentono gli studenti perché mancano gli insegnanti nelle aule Quindi lì noi vogliamo intervenire con forza, con durezza, senza generalizzazioni Compito del MIUR è intervenire immediatamente ma poi c'è anche la magistratura e le forze d'ordine che stanno svolgendo al meglio il proprio compito Faraone stamani ha partecipato ad un convegno al Nicolo Gallo sul tema la scuola ieri e oggi promosso dalla consulta studentesca Noi stiamo facendo una riforma sulla scuola che sostanzialmente è la più grande riforma che si sia mai fatta L'abbiamo pensata e costruita ascoltando gli studenti, ascoltando gli insegnanti e i cittadini perché la scuola è un luogo di società e di partecipazione A febbraio faremo il decreto e partirà questa riforma che cambierà la natura stessa della scuola C'è la lezione didattica ma c'è tanto altro che può essere fatto Per cui il messaggio che vogliamo dare è di speranza e di investimento da parte del governo sulla scuola, l'edilizia scolastica e la più grande emissione di docenti in ruolo circa 140.000 insegnanti precari diventeranno insegnanti di ruolo è un investimento grande per il futuro del paese Più che positivo, il bilancio presentato ieri dalla Polizia Municipale di Palermo che in conferenza stampa ha illustrato il report delle attività svolte nel 2014 anticipando anche alcune novità funzionali volte a garantire il rispetto della legalità Dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime di Parigi il Comandante dei Vigili Urbani Vincenzo Messina ha elencato dati e numeri che hanno posto in evidenza il miglioramento della comunicazione fra le istituzioni e i cittadini grazie anche all'uso dei social network Nel 2014 sono state elevate 372 multe contro i parcheggiatori abusivi 20 le persone denunciate sequestrati oltre 30 tonnellate di prodotti a venditori ambulanti 289 controlli sono stati eseguiti sui locali della cosiddetta Movida ritirate 168 patenti, 333.000 le sanzioni elevate e 7.581 i veicoli rimossi individuate 90 discariche abusive delle quali quasi la metà con presenza di ammianto denunciate 485 persone per violazioni urbanistiche e 31 per violazioni di sigilli invariati gli incidenti stradali circa 3.449 di cui 27 mortali registrato un incremento dei feriti in prognosi riservata fra le novità annunciate del nuovo anno il presidio delle zone della Movida con le pattuglie munite di accoltest e l'arrivo di telecamere per la rilevazione automatica delle violazioni a codice della strada a chiusura il sindaco Orlando ha ribadito che Palermo è migliore dei palermitani e ha affermato che rispetto al passato la lotta alla illegalità è cambiata i parcheggiatori abusivi ha detto non sono disperati che cercano di sbarcare il lunario ma parte integrante di un controllo criminale del territorio e noi ogni mese raccogliamo i dossier dei vigili urbani per inviarli direttamente in procura se volete che un articolo mi può scalfire non è vero che ho fatto ancora ce ne sono a mai finire potremmo parlare anni di quello che è uscito fino ad ora poi ne possiamo parlare anche certamente non in una conferenza stampa quelle frasi pronunciate dal sindaco Renato Accorinti contro la stampa durante l'incontro con i giornalisti dello scorso 8 gennaio continuano a suscitare polemiche e dopo le risposte dirette al primo cittadino da parte di molti dei professionisti dell'informazione presente a quel tavolo arriva anche il comunicato formale dell'Associazione Siciliana della Stampa un duro richiamo al primo cittadino di Messina a firmarlo il segretario provinciale dell'Asso Stampa Giuseppe Gulletta ed il componente della giunta esecutiva dell'Associazione Francesco Celi la vicenda ormai è ben nota la polemica è scoppiata pochi giorni fa a seguito delle critiche mostre ad Accorinti per la scelta di nominare il suo assessore Elio Continibali una decisione che ha prodotto la reazione di buona parte del movimento Cambiamo Messina dal Basso partito di riferimento del sindaco che non ha gradito però il nome e i metodi di decisione il risultato è stato che l'assessore designato ha preferito declinare Accorinti però se l'è presa con la stampa che sarebbe stata colpevole di aver avvelenato il clima e nervosamente si è scagliato contro i giornalisti quanto accaduto è di una gravità inaudita e dimostra l'insofferenza del sindaco di fronte alle critiche che la stampa ha il dovere di fare si legge nel comunicato dell'Asso Stampa il diritto di critica è alla base della libertà di stampa di una società che si è data delle regole che tutti sono tenuti a rispettare anche sindaco e giunta nessun pregiudizio da parte della stampa e dei social network nei confronti dell'amministrazione comunale ma solo il sacrosanto diritto ad informare quello stesso per il quale molti colleghi a tutte le latitudini hanno sacrificato la loro vita non è stato quindi il miglior modo per ricordare i giornalisti francesi di Charlie et Do continuano i rappresentanti della Sostampa quanto infine al dilettantismo cui ha fatto riferimento un assessore in conferenza stampa sindaco e giunta farebbero bene a guardare al loro interno dove certamente ne troverebbero ampie sacche L'unica tappa siciliana del noto personaggio Max Giusti sarà a Palermo e precisamente al Teatro Zappalà alla soglia dei 30 anni di carriera nell'anno 2015 Giusti fa parlare senza filtri i suoi personaggi che lo hanno accompagnato per tutto questo tempo i primi che Max interpreta sono proprio suo padre e sua madre i genitori all'antica alle prese con un figlio svogliato e perennemente immaturo a questi seguono Claudio Lotito, Albano e Cristiano Malgioglio che lo hanno reso noto nel programma TV quelli che è il calcio, uno spettacolo completamente attuale, leggero e comico C'è una cosa che mi piace di questo teatro che è un teatro familiare gestito da attori un teatro che ha la sartoria ha la falegnameria un teatro che cerca di rottare contro tutte le difficoltà che ci sono nel fare teatro oggi e va avanti, mandando avanti una tradizione quando sono stato chiamato e è stato un onore essere chiamato mi sono detto vado a lo Zappalà c'è una programmazione strana rispetto a me c'è molta operetta ma loro mi hanno detto senti ma noi vogliamo continuare a investire nel nostro teatro vogliamo andare avanti vogliamo portare te qua da noi e io ragazzi mi sono detto forse sono importante in questa operazione forse faccio qualcosa di nuovo di qualcosa che però si può toccare e quindi se io posso aiutare quello che in realtà fanno loro da anni a essere un po' un nuovo volano un'ulteriore ripartenza un'ulteriore slancio per un teatro che è un teatro di tutta una città ma è anche un teatro come ti posso dire che porta proprio sotto casa soddisfatti anche al teatro Zappalà come è stato il Giardino Inglese tantissimi anni fa noi proprio quest'anno il 9 di febbraio si inaugura il ventennale dell'attività di questo teatro di questo tempio della cultura che comunque ha rappresentato sia opere, operette, musical ha ospitato tanta gente noi poi stamattina eravamo in prova con Tottietto Tino con la nuova produzione che faranno abbiamo avuto Ernesto Maria Ponte Antonio Pandolfo Verrà cioè lavoriamo su diciamo i talenti e sugli artisti palermitani ma anche sulle produzioni musicali lo spettacolo andrà in scena dal 10 al 18 gennaio Comunica Codice 202 in atto sul Palermo 98 andiamo in appoggio anche alla me Global Security International gli specialisti della vigilanza e della sicurezza personale altamente qualificato pronto intervento controllo attività commerciali con tecnologie innovative Global Security International servizi di scorta radio e telecamere telesoccorso 24 ore su 24 vigilanza notturna e diurna vigilanza fissa punzonature trasporto valori Global Security International consorziato Sicurgem contattaci per la tua sicurezza chi covo un amore d'uovo chi covo un amore d'uovo Maurizio Zamparini sarà una partita molto molto difficile per il Palermo dice Zamparini perché la Fiorentina è una delle migliori squadre che ci siano in circolazione nel campionato che momento sta vivendo la Fiorentina? La Fiorentina ha raccolto solo qualche risultato negativo dice Zamparini col Parma ha perso anche se non meritava di perdere avesse vinto adesso sarebbe in un'altra posizione e tutti direbbero che non è crisi per me sottolinea Zamparini quella persa dai toscani contro il Parma è una partita persa immeritatamente basta nessun interesse inoltre da parte della Fiorentina per i gioielli rosa nero Dibala e Vasquez no assolutamente no i viola non ci hanno chiesto né Vasquez né Dibala né qualsiasi altro giocatore del Palermo al Franchi Iachini non cambia la squadra quindi Sorrentino in porta Mugnoz, Gonzales e Fedale in difesa Morganella e Lazaro sugli esterni in mezzo Maresca, Barreto e soprattutto Rigoni in avanti Vasquez e Dibala dalla Sicilia alla Sicilia con una breve parentesi Ligure a Lentella Cefas Malele arriva a Trapani con la ferma intenzione di trovare spazio per dare una mano alla formazione di Roberto Boscaglia un ragazzo timido ma con le idee chiare così come ha dimostrato durante la prima conferenza stampa della sua avventura nelle città Falcata Trapani rappresenta una realtà importante ha detto Malele che ha avuto modo di ammirare anche l'avversario anche questo mi ha convinto a accettare la proposta della società il ritorno nell'isola dopo la trafila nelle giovanini del Palermo con pagine con cui ha anche debuttato in Serie A ed è poi quella la vetrina che l'attaccante svizzero a cui strizza l'occhio provare a raggiungerla proprio con la maglia granata attraverso la lotteria magari dei playoff e la sua scommessa sono qui per fare del mio meglio ha detto spero di ritagliarmi uno spazio da protagonista aiutando il club a raggiungere i playoff è quello l'obiettivo a cui dobbiamo puntare dopo l'ottimo campionato disputato nella passata stagione voglia di mettersi in mostra dunque pur non avanzando alcuna pretesa l'ex rosa nero si presenta a butta di piedi e tatticamente spiega di essere un bomber atipico in grado di svariare su tutto il fronte offensivo posso giocare sia in posizione defilata come attaccante esterno sia da centravanti il ruolo non rappresenta certamente un problema intanto per un attaccante che arriva uno che potrebbe partire Matteo Mancosu storico bomber del Trapani è vicinissimo al Cagliari in serie A in corso al palazzo dell'Eliseo una riunione d'emergenza del governo francese alla presenza di Holland al centro resta l'emergenza terrorismo ci sono nuove minacce il nostro compito non è finito aveva detto ieri sera in un discorso alla nazione il presidente francese nel corso del pomeriggio erano stati uccisi tre terroristi responsabili dei massacri degli ultimi giorni 17 le loro vittime tra cui 8 giornalisti di Charlie Hebdo contro il terrorismo domani si terrà una marcia per le strade di Parigi imponenti le misure di sicurezza saranno presenti leader politici da tutto il mondo tra loro Matteo Renzi Angela Merkel, David Cameron, Jean-Claude Juncker e Mariano Rajoy analoghe manifestazioni in decine di altre città transalpine mercoledì prossimo uscirà il nuovo numero di Charlie Hebdo con una tiratura record di un milione di copie avrà otto pagine rispetto alle solite 16 la prima riunione dei giornalisti scampati al massacro si è tenuta ieri nella redazione di Liberazione sotto la sorveglianza della polizia Matteo Renzi spinge sulla riforma del fisco così com'è fa schifo da 30 anni lo cambieremo promette il presidente del consiglio che in vista dell'elezione del successore di Napolitano assicura ce la faremo al quarto scrutinio smantellata dai carabinieri di Cosenza una centrale dello spaccio di eroina e cocaina in manette otto persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti la galleria degli uffizi è stato il museo italiano più visitato nel 2014 rispetto al 2013 il museo fiorentino registra un incremento del 3-4% i capolavori custoditi hanno richiamato quasi 2 milioni di visitatori il museo il museo Grazie a tutti.